Stammi lontana, è meglio per te. GFV plite furiosa tra Sofì Codegoni e Lulù, è successo davanti a tutti Guerra nella casa del grande fratello tra Sofì Codegoni e Lulù Selassie. La bomba è esplosa nel pomeriggio di oggi. Pesante il confronto. Ancora una volta la discussione è partita intorno ad Alessandro Basciano Nelle ore scorse Jessica Selassie aveva interrotto Sofì e Alessandro nella notte. Si era infatti presentata davanti al letto dove si stavano coccolando, interrompendo di fatto le loro effusioni come osserva il sito Funwick riposta e tweet degli utenti Ma si rende conto? È peggio degli stalker, non ci sta con la testa, che anzi ascrivono alcuni su social alla vista dell'atteggiamento di Jessica Selassie Anche la sorella Lulù nei giorni scorsi aveva provato a farla ragionare ma a quanto pare non intende rassegnarsi, nemmeno davanti all'evidenza. E oggi Sofì Codegoni ha voluto dire la sua Mi scoccia essere messa sempre in discussione come amica quando io difendo sempre Jessica. Da stamattina che sprona Alessandro a parlare con Jessica ha detto Sofì Codegoni Parole che hanno provocato la reazione di Jessica Non mi aspettavo alcune battute da te, mi ha imitato. Non mi è piaciuto questo comportamento Tra Jessica e Sofì Codegoni è poi intervenuta anche Lulù in difesa della sorella. Ma cosa caos sono queste urla? Non stiamo al mercato. Ma quali battutine? Stiamo tranquilli. Se avevamo un problema manco ti parlavamo. Ma basta Mi parlate come se avessi rubato il fidanzato a qualcuno. Mi fate sempre battute, e tutto il giorno ha risposto la Codegoni Io Kona non sono. Volete giocare con le frecciatine? Va bene, rispondo con le frecciatine anche io. Io sono buona e cara, ma dopo mi rompo. Adesso divento sarcastica anche io e fidati che sono tremenda ha aggiunto Sofì Codegoni Ma chi le fa? A me non interessa fare questi giochi. Ma io sto pensando e ca i miei ha concluso Lulù furiosa